. Ivana Mrazova si svela, ecco perché è acute, ha lasciato il suo fidanzato e cosa sta succedendo con Luca Onestini, è trascorsa circa una settimana dalla finale del grande fratello Vip2 che ha visto vincitore il concorrente Daniele Bossari. La seconda edizione di questo reality ha riscosso un enorme successo dovuto ai personaggi che hanno deciso di vivere questa esperienza all'interno della casa più spiata d'Italia, ogni volto che abbiamo avuto modo di conoscere ci ha emozionato e sorpreso. Protagonisti di questo articolo sono Ivana Mrazova e Luca Onestini, scopriamone di più leggendo tutti i dettagli, che sono riportati di seguito. Gossip News dopo il GFB, Ivana svela la verità sul suo ex fidanzato Sono Molti Fane, che sognano la nascita di una nuova copia, quella formata da Ivana e Luca. Come ben sappiamo, però, la mazzora era impegnata sentimentalmente durante la sua esperienza televisiva nella casa del grande fratello Vip, l'attrente e giovanissima modella aveva annunciato più volte il suo fidanzamento che, oggi, a quanto pare sembra essere stato troncato in maniera definitiva. Ivana Mrazova, secondo le ultime indiscrezioni, ha lasciato il suo ex fidanzato, ma che cosa è successo? A parlare è proprio la terza finalista del GFB 2 minuti, la quale si è svelata nel serottino di Barbara D'Urso, nella trasmissione di Pomeriggio 5 minuti in cui è stata ospite di recente. Ivana ha pubblicamente rivelato di aver lasciato Alessandro, il suo ex fidanzato, una volta terminata la sua esperienza nel reality poiché la permanenza in casa le ha dato modo di riflettere e comprendere ciò che vuole. Le dichiarazioni di Ivana Mrazova, il fidanzamento e Luca Onestini non era un fidanzamento reale ma ci stavamo frequentando, ha fatto sapere Ivana nella trasmissione di Barbara D'Urso riferendosi ad Alessandro. Ha, inoltre, rivelato di aver analizzato i suoi sentimenti nel corso della sua permanenza nella casa di Cinecittà annunciando, lui non l'ha presa molto bene ma alla fine ha capito, ora, ciò che molti si domandano è se questa rottura sia stata causata dal rapporto, che si è creato tra Luca e Ivana. In merito a questa nuova conoscenza, la Mrazova ha dichiarato, Luca è un mio amico e non so cosa accadrà tra di noi, succederà ciò che dovrà succedere. Dunque, la giovanissima ex finalista del GF VIP non ha escluso la nascita di una possibile storia d'amore assieme a Luca Onestini, come si evolverà questa situazione, non ci resta che attendere tutti gli sviluppi. Per non perdere i nuovi scopri manete aggiornati con le nostre notizie, per farlo vi basterà cliccare sul tasto segui in alto, sopra il titolo di questo articolo, Luca Onestini e Ivana Mrazova. Grazie. 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 Grazie.